buongiorno ragazzi allora nuovo video e come avete letto dal titolo a farlo ogni telegiornata se c'è internet se c'è internet avete capito bene se c'è internet se c'è tecnologia se la fa del mozzo che tu voglio ho dato a computer internet guardate così ok è da 62 per cento ok intanto io dovrei mettere da botto perché c'è guardate che c'è la mia camera è utilizzata ok quindi io mi attaccato così io metto a botto e ci vediamo dopo ciao scusate ragazzi come se mio padre ti da e di solito con mio padre mettiamo i video su youtube oggi prima ti metto da botto alla camera che ho fatto alcune cose ho ritagliato queste che è un attimo modo per la nuova telegiornata ok ragazzi siccome devo fare una giornata che c'è internet di solito adesso con papà che qua giocate con me avete voi i video su internet giochiamo a una io ho visto tutte le volte vedo papà ok ok va eh mio padre ok no mi ha giocato tocca a me eh Quattro, guardi pa, c'è, niente, 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 pa, guardi, pa, guardi, pa, guardi. Otto, che cacchio, niente, niente, pa, guardi, sei più tue, no, dai, quattro, vabbè, dai, quattro, soltanto, otto e quattro, notici, altrimenti per questa zona, aspetta, oddio, lo canone, non è possibile, oddio, ti la fanno, aspetta, oddio, allora, ma togli la cosa, se non ci che cavolo, ok, no, ma poi è stata evasa, no, no, vabbè, poi potrai controllare tu, lei fa anche renderti conto, Pino, che colore è qua? Pa, che colore, pa, che colore? Guardi Uno Uno Quattro uno come uno c'è di uno tocca a me tocca a me tocca a me tocca a me capiocolore in blazzo uno a petto come a petto no dai vabbè la quarta partita finisce qui e vabbè tre io e una dove ci vediamo dopo ragazzi abbiamo finito di giocare uno cioè nove a dieci io ho nove e papa dieci ho pezzo e adesso mi metto la 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 cosa mi rifaccio il letto perché mi rifaccio il letto poi io devo metterla a porto qua cioè che è cioè il letto devo fare il letto e poi io devo metterla a porto la camera e non ci facciamo tutto e poi io vi faccio vedere come è venuta ehi ragazzi io ho fatto a mangiare e non ce la faccio più attraverso sai io te non ti ho vissuto comunque ho coccato in mezzo a porto la camera e ho fatto il letto e ho attaccato le cose di miracolo già lì e niente purtroppo potevo poter vedere la tv con i miei genitori quindi però fino alle quattro e mezza ciao no 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 a pomeriggio a pomeriggio a pomeriggio poi vi faccio vedere come è venuto intanto ho fatto la la camera ho fatto il letto ehm aspetta per me ci metto qui un attimo è bellissimo fantastico 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 allora io tommo il tappato e niente non è come ci facciamo dopo facciamo il puzzle insieme vi faccio vedere allora ragazzi penso per non non usare il internet tutto per fare il puzzle di miracolos vicino come ci fa dovete fare prima i i i pezzi il il contorno vedete i pezzi e poi i pezzi io lo faccio dopo vi faccio vedere come è venuto perché se no viene tanto il video allora ho fatto il puzzle però ho cominciato a fare il puzzle ma mi sono accorta che forse mancano alcuni pezzi ecco le cose ballano ma li accadono intanto lavo le cose ci vediamo dopo ciao ciao ragazzi è fatta c'era io non desisto se sei internet oddio comunque adesso che do un po' coi zotti vediamo un po' se mi faccio il tempo vediamo comunque io vi dico che non leggerò fino fino a mezzanotte se sei tenendo non lo so non lo so aiuto comunque è bello guarda perché guarda come fa guarda ma attocca vittocca non pari che dell'è tutto Pagata, non mi amica Pagata 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 ci siamo a top niente oh madonna mia mi sono appaventato e niente ci vediamo dopo ciao sono le 7 10 voglio internet voglio fare qualcosa non so che fare non so che fare comunque non posso vedere non fai questo non posso vedere non posso vedere neanche dicevo non posso vedere neanche da tv niente ce l'ho fatto comunque ci vediamo dopo pazzi il tempo e io e io non ho già sapete più domenica vado a fare non so che Non ho fatto lopper, non ho fatto lopper. Non c'è che fa... ok ragazzi sono arrivati i miei genitori e l'uno fa metà dubbi e ci mettiamo il pijama perché ci mangiamo il pijama e niente e ci mettiamo il pijama tutto l'archivagno non la devo utilizzare no la devo utilizzare la devo utilizzare quindi ci mettiamo troppo ok mi sono messo il pijama eccomi mi metti il mio pijamino e no no non ce l'ho fatta cioè non ce l'ho fatta non ce l'ha faccio attraverso internet no 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 cioè non ce la faccio proprio guardate guardate non ce l'ho fatta io io ho dovuto avanzare mi metto internet dopo una giornata non ce l'ho fatta bene ragazzi miei eccomi non ci sono riuscita non ho annuttate sul blog su internet perché sono le 21 22 15 è noto ciao dicevo dicevo se questo video vi è piaciuto mi sono dimenticata di fare la fine dicevo se questo video vi è piaciuto mettete like, condividete, commentate e fate tutto mi raccomando ciao